La muscolatura del bacino è un complesso cruciale per la postura e il movimento, quindi il benessere passa anche da qui. Oggi ti mostro una sequenza che puoi fare tutti i giorni per migliorare la flessibilità delle tue anche, delle tue gambe e della tua schiena. È una sequenza un pochino più profonda, ma che decisamente è adatta a tutti. Iniziamo a gambe divaricate e trova una posizione comoda, puoi anche sederti su un supporto. Da questa posizione, con le mani qui davanti a te o sulle gambe, iniziamo ad ispirare inarcando la schiena, muovendo anche il bacino, cercando di andare ad inarcare, ispirando arrotonda la schiena e anche qui andiamo a muovere bene anche il bacino. Guardiamo verso l'ombelico, inspira di nuovo, inarca la schiena, guarda verso l'alto, immagina di aprire il petto, muovi bene anche le anche, e ispirare a rotonda, guarda giù. Di nuovo, inspiro, inarca la schiena, inclino il bacino avanti e ispirare a rotonda, guardo giù verso l'ombelico, inclino il bacino all'indietro. Ancora una volta, ispirare inarca la schiena, guarda verso l'alto ed ispira a rotonda, guardando giù. Ritorna con la schiena neutra e ora andiamo a creare delle belle circonduzioni qui, dei bei cerchi energetici che ci aiuteranno a sciogliere bene tutta la fascia delle anche. Quindi inizia a muoverti in modo fluido, ovviamente seguendo il tuo grado di mobilità. Puoi andare più profondo o meno profondo rispetto a me. Cerchiamo di creare appunto questo movimento che ci aiuta a sciogliere la muscolatura delle anche, della schiena, delle gambe. Cerchiamo di connettere il respiro al movimento. Andiamo un pochino più a fondo con l'ultimo. Ritorniamo al centro e ora ci spostiamo dall'altro lato facendo la stessa identica cosa. e iniziamo ad osservare se ci sono delle grandi differenze oppure se ci sentiamo abbastanza equilibrati nel nostro bacino. Osserviamo anche dove è la tensione maggiore che sentiamo, magari a livello degli aduttori, magari invece a livello dei glutei. Osserviamo se questo movimento è più fluido da questo lato o era più fluido dall'altro. Un'ultima volta. E ritorniamo neutrico la schiena. Ora se il corpo inizia già ad abituarsi a questa apertura possiamo provare ad andare leggermente più a fondo aprendo le gambe un pochino di più. E ora andremo a scioglierci da un lato all'altro inspirando ogni volta, flettendoci lateralmente e cercando di arrivare anche qui abbastanza vicini al nostro limite. Ogni volta magari leggermente più profondi. Ogni volta un po' più fluidi. Cerca davvero di osservare con consapevolezza questo movimento. Cerca di andare bene a fondo osservando anche qui le piccole differenze tra un lato e l'altro del corpo. Lo faremo ancora una volta sia da un lato che dall'altro. Questa volta sto fermandoci per 5 secondi. 4 3 2 1 e sciolgo. Vado dal lato opposto anche qui per 5 4 3 2 1 Ritorniamo al centro e ancora una volta se il corpo inizia ad abituarsi a questa posizione proveremo ad andare un po' più a fondo aprendo le gambe un po' di più. Da qui inclineremo il busto in avanti cercando di portare il petto verso terra. Quindi le mani sono sempre qui come supporto in più. Espiro scendo in avanti inspiro torno espiro scendo avanti inspiro torno. E' quasi come se volessimo portare il petto verso terra. espiro scendo. Espiro scendo e torno. Andiamo un'ultima volta dove resteremo per 5 secondi. Scendiamo avanti, arriviamo vicini al nostro limite per 5 4 3 2 1 torna su questo conclude la sequenza di oggi. Come vedi è una sequenza piuttosto rapida che puoi fare tutti i giorni ma è davvero efficace per iniziare a creare quella mobilità in più a livello delle anche. Lo so, magari all'inizio non sarà proprio comodissima o semplicissima da seguire ma piano piano il corpo si abituerà sicuramente. Fammi sapere come è andata per te e ovviamente se vuoi seguire lezioni più lunghe le trovi tutte nei miei corsi online in Kaioga. Ci sono già 300 lezioni disponibili e il link è qui sotto. A presto!